I militari della tenenza di Camerino, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Macerata, hanno concluso un'indagine in materia di lavoro sommerso nei confronti di un imprenditore attivo nel settore manifatturiero. Gli accertamenti hanno fatto emergere l'impiego di sette lavoratori completamente in nero in assenza delle preventive comunicazioni agli organi competenti e di altri nove lavoratori irregolari. È emerso che il titolare della società ispezionata pagava gran parte del personale con emolumenti nettamente inferiori a quelli risultanti dalle buste paga, in presenza peraltro di maggiori ore effettuate rispetto a quelle formalmente indicate. Allo stesso modo, per taluni altri dipendenti, dove è stata rilevata la coincidenza degli importi con la busta paga, è stato riscontrato un numero di ore effettuate superiori a quelle documentate, le quali non sono state retribuite. Inoltre, ulteriori accertamenti hanno permesso di constatare che veniva corrisposta a una retribuzione netta inferiore di circa il 40% rispetto a quella stabilita nel contratto collettivo nazionale di categoria, come confermato dagli stessi dipendenti. Alla luce di quanto emerso, il datore di lavoro è stato deferito alla procura per il reato di sfruttamento. Al termine dell'attività è stato accertato che a taluni dipendenti la retribuzione è stata corrisposta per alcune mensilità senza utilizzare metodi tracciabili e che due dipendenti sono stati impiegati in alcune giornate mentre fruivano della cassa integrazione in deroga da Covid-19. In tal modo, l'impresa beneficiaria del sussidio ha anche usufruito gratuitamente di prestazioni lavorative pagate in realtà dall'Ips. Per tale violazione la società è stata sanzionata amministrativamente e l'importo, indebitamente percepito, è stato segnalato alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Macerata, quale provento illecito da sottoporre a tassazione.